Il reparto sportivo di Audi mette la firma anche nelle nuove Q3 e Q3 Sportback. A spingere le RS Q3 ed RS Q3 Sportback ci pensa un vigoroso 5 cilindri turbo da due litri e mezzo, abbinato ad un cambio a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti. Le prestazioni parlano di una coppia di 480 Nm e portano a staccare lo 0-100 in 4 secondi e mezzo, con una velocità massima di 250 orari. La meccanica prevede sospensioni più rigide e più basse di 10 mm rispetto alle versioni tranquille, altrimenti a pagamento è disponibile l'asset adattivo. Anche per quanto riguarda l'impianto frenante è previsto in optional uno sofisticato per gli amanti della pista. Esteticamente questi due potenti SUV si distinguono più al posteriore e la RS Q3 Sportback è più bassa di 4,5 cm. Ad accomunarle ci pensano uno spoiler specifico e l'inconfondibile sound. Nel diffusore trova posto uno scarico a due uscite ovali. Il comparto di infotainment informa il conducente circa la coppia e la potenza erogata, il tempo sul giro in circuito e la forza G raggiunta. I sedili sportivi sono rivestiti in pelle nera e alcantara, mentre a pagamento si può avere la pelle nappa con impunture a rombi. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!